il manfredonia liquida la pratica san marco e tiene il passo un primato seppur con una gara ancora da disputare il derby da uno si mette tuttavia in salita per i sipontini ospiti clamorosamente in vantaggio al decimo peraltro sulla loro prima sortita offensiva ecco la rete di colella che scocca un fendente da fuori area e inganna all'estremo bella vista un inatteso schiaffo che mette però il turbo alla formazione di mister decandia che nella restante parte della prima frazione fa le prove del pari che arriva a ripresa inoltrata corre il 52esimo quando questo cross di conticchio è al bacio per morra complice una deviazione sarà siglata la rete dell'uno pari otto primi ed il ribaltone servito lo realizza il subentrato lopez un promettente classe 97 il quale dopo la rete segnata si regalerà addirittura una doppietta in questo caso su servizio di giambuzzi da apprezzare la gestione della sfera di lopez ed il tiro di destro un 3 a 1 corroborante per il manfredonia soprattutto in vista del ritorno di coppa contro il manduria